MASSIMO non importati male la ragazza che sta lavorando mani su 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 vi stiamo filmando, quindi ancora qui su Youtube, tutti su con la maniii qui si che hanno vinto Quanto siete belli, fategli vedere, fategli vedere, ciao! Il ballon da party, Manostichi, Massimo Manca, Bobby DJ, Pianziano Lavorano, ballon da party, il casino! Un saluto particolare è che i nostri amici scalzi e campioni che sono con noi. Ma io voglio salutare tutti i single! Vorrei salutare tutti quelli che hanno lasciato la ragazza o il ragazzo a casa! Vorrei salutare tutti gli universitari! Tutti quelli che hanno avuto il casino! Mani! Vai al tempo! E ancora! C'è Bobby DJ! Vai guys! A tempo, a tempo, a tempo! Avvira il saluto, signori! Il ballon da party! Tutti quanti insieme, su con le mani! L'animazione! Su, su, su! Mauro Stichi, Massimo Manca! Bobby DJ! E tutto il pubblico! Viva il barato! Facciamo sentire le mani! Vai! Porta su le mani! Vai! Chi non balla con noi è uno spigato! Guardate come sono sexy i nostri srampoglieri! Su! Pronti, Massimo! Tutti! La mani! Ma quanti siamo, Massimo? Tanti, Mauro! Tanti! Tanti, Massimo! Grazie a tutti.